Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca e oggi voglio parlare di un piccolo progetto che ho fatto con Arduino. Lo scopo di questo progetto è quello di rilevare, se ci dimentichiamo, il fornello della cucina acceso per troppo tempo. A quanti di noi magari sarà capitato di mettere il caffè sul fuoco, mettere una pentola sul fuoco e magari andare in un'altra stanza perché stanno facendo un'altra attività, allontanarsi e tornare magari e trovare che il caffè si è versato, che l'acqua della pasta è scolata fuori, eccetera. Quindi per questo motivo l'idea è quella di rilevare se fa troppo caldo vicino al fuoco e se nessuno sta vicino al fornello in quel momento. Facendo così scattare un allarme sonoro, nel caso ci siamo allontanati, dimenticando la fiamma accesa. Che cosa vuol dire questo in pratica? Andiamo a vedere il nostro Arduino. Vedete, questo è un kit che ho comprato su internet con un processore Arduino. È stato collegato con una piccola breadboard e vi è stato connesso un sensore di temperatura a infrarossi, un sensore di distanza, misura la distanza dall'oggetto, vicino, lontano, un piccolo buzzer, si vede poco sotto i fili, comunque è un buzzer attivo, quindi basta dargli un segnale digitale alto per un certo tempo per farlo suonare, e due led, un led rosso e un led giallo. Il red rosso si accenderà quando farà caldo, quando ci sarà la fiamma accesa, comunque quando sentirà il calore, e il led giallo si accenderà quando sono vicino. Vedete, già basta che mi muovo vicino al circuito per farlo accendere. Anche il led rosso basta anche senza fiamma, una fonte naturale di calore siamo noi, quindi basta che avvicinare un dito al sensore e il led rosso si accende. All'interno c'è il codice che ho scritto per gestire questo programma, contiene varie variabili, varie impostazioni, ne parleremo a breve, ma vediamo subito come funziona, se lo compiliamo e lo avviamo, questo verrà caricato sul nostro Arduino, e aprendo semplicemente il plotter seriale. Ok, partito, vediamo, ci sono vari valori, ma quelli che ci interessano per il momento sono le temperature. In questo momento Arduino sta continuando tramite il sensore a infrarossi a misurare le varie temperature che ci sono rivolte in volta. Come vedete, si capisce anche più o meno dalla frequenza di aggiornamento dello schermo, viene rilevata una temperatura al secondo, quindi viene fatta una misura al secondo della temperatura. Se io mi avvicino al sensore, come ho fatto vedere in precedenza, vedremo che la temperatura sale, più vicino vado, più sale, ovviamente, fino a arrivare al massimo la temperatura del corpo, se mi allontano scende. Ok, dopo un po' il sensore si spegne perché mi sono allontanato. Come potete vedere sullo schermo, questa è la temperatura che è salita, questa in blu è la temperatura media, e questa in giallo è considerata la temperatura ambiente. All'interno del programma utilizziamo diverse variabili array per tenere conto di quello che possiamo considerare lo stato del sistema istante per istante. Il primo array di cui andremo a vedere nel codice è l'array delle temperature, che ho voluto chiamare T-IST, come T-History, il numero di elementi nell'array è composto dal numero di campioni impostati, nel caso che vedremo il programma è 30, contiene un campione per ogni intervallo di un secondo, quindi osserviamo 30 secondi alla volta della temperatura circostante, e inoltre c'è una variabile che vedremo all'interno del programma, che si chiama idx, come index, indice, che fa da indice per la posizione corrente all'interno dell'array. Cosa vuol dire? Che se idx è uguale a 2, il campione che vado a leggere verrà messo nella posizione numero 2 nell'array, dopodiché si completa un ciclo, idx diventa 3 e così via, fino a 29, perché sapete che gli array cominciano ad essere numerati da 0, quindi da 0 a 29. Una cosa importante da tenere presente per il funzionamento del programma è questa qui, idx contiene la posizione corrente, quindi nel caso in figura idx è uguale a 2, e ho misurato una temperatura di 20 gradi, punto 20, e tutti gli altri valori che sono all'interno dell'array, in ogni istante in cui io vado ad osservare idx, sono campioni che sono nel passato, per cui se mi trovo nel momento in cui idx è uguale a 2, il campione numero 1 sarà il campione precedente, lo 0 quello precedente ancora, il 29 quello precedente allo 0, e così via, fino ad arrivare al campione numero 1. Dopodiché ci sono altri due concetti importanti, che sono la temperatura media e la temperatura ambiente. Abbiamo visto prima il plotter seriale di Arduino, che ci faceva vedere la variazione della temperatura istante per istante, e inoltre c'è una linea, che vedete qua è contrassegnata in viola, che rappresenta la temperatura media. La temperatura media, altro non è che la media aritmetica di tutti i campioni inseriti all'interno dell'array di T-East. Inoltre, la temperatura ambiente viene calcolata all'avvio del programma, quindi quando avviamo il nostro programma con Arduino, bisogna essere in uno stato di quiete, diciamo così, il fornero deve essere spento, non ci devono essere fonti di calore eccessive, perché viene calcolata una media, e quella media iniziale viene considerata la temperatura ambiente. Poi, poiché durante l'arco di un'interna giornata, pensiamo di posizionare adesso, questo è ancora il prototipo su cui sto lavorando, di posizionare l'Arduino da qualche parte vicino alla nostra cucina, la temperatura della stanza in cui ci troviamo varia durante il giorno, perché appunto sale man mano che la giornata va avanti e poi scende durante la notte, e quindi durante il loop principale di Arduino, ogni tanto questa temperatura ambiente viene aggiornata, purché sia, diciamo, una temperatura comparabile con quella che mi ricordavano, perché se il fornello è acceso in quel momento, c'è una fonte di calore, io non devo aggiornarla con la temperatura che vedo in quel momento, perché vuol dire che c'è un'altra azione in atto. Ricordiamoci che la temperatura è un valore fisico che varia lentamente col tempo, quindi durante la giornata tra le 8 e le 9 del mattino, sì, ci può essere una certa variazione, magari è partito un riscaldamento o cose del genere, però non mi aspetto che ci sia una variazione di, che ne so, 10 gradi all'interno di un'ora, ci sarà una certa variazione di temperatura media durante il giorno, di temperatura ambiente durante il giorno, e per questo ogni tanto dovrò per curuparmi di aggiornarla. Questi valori vengono raccolti nel programma all'interno di tre variabili, TAVG, TAV, la temperatura media, TM, la temperatura ambiente, e TEMP, che vedete sul grafico, in realtà si chiama TEMPREADING nel programma, e la temperatura corrente. Inoltre viene utilizzato, come facciamo a capire che il fornello viene stato acceso guardando l'array delle temperature che abbiamo. Viene utilizzato un altro array, che è chiamato un array della tendenza, TREND, ogni volta che raccogliamo un campione, per esempio IDX uguale a 2, quindi il terzo campione dell'array, questo viene confrontato rispetto a uno dei campioni precedenti, facciamo conto rispetto al precedente, e se si discosta troppo rispetto a una soglia, una soglia percentuale, se è del 5% più alto rispetto al precedente, viene segnato un valore più 1, se è del 5% più basso, viene segnato un valore meno 1, se invece è in media, all'interno di questa fascia di soglia del 5%, il 5% è un esempio che è quello che ho impostato appunto nel programma Tarandolo, viene considerato 0, quindi questo array delle tendenze è pieno di 0 e 1, quindi la somma di tutte queste tendenze mi dà un punteggio dell'array, il punteggio minimo quindi sarà meno 30, il punteggio massimo sarà più 30, e un punteggio neutrale sarà 0, quando saranno tutti a 0 vuol dire che nessuna delle temperature che ci sta dentro è varietà troppo rispetto alla precedente, se ho un punteggio per esempio di 3 o di 4, ci saranno dei campioni che ho preso, che saranno più elevati dei campioni precedenti, quindi la temperatura magari si sta alzando in fretta e considero la fiamma accesa. Se invece al contrario ottengo un punteggio negativo di meno 4, meno 5, meno 6, vuol dire che la temperatura rispetto a quello che sto osservando si sta abbassando rapidamente, e quindi la fiamma è stata spenta. Quindi questo qui è un primo sistema che viene utilizzato all'interno del programma per capire se la fiamma è spenta o è accesa e di conseguenza accendere o spegnere il LED che indica la temperatura. Inoltre, che cosa possiamo dire? Abbiamo visto prima il grafico delle temperature con il plotter seriale e osservando questo grafico ci accorgiamo che questo grafico contiene delle pendenze. Qui questa linea è praticamente piatta, quest'altra sta salendo molto rapidamente, quest'altra scende, e questa è ancora più o meno piatta, questa scende molto rapidamente per tornare poi piatta. Che cos'è questa pendenza? Altro non è che la variazione di gradi al secondo che ci sono istante per istante. Quindi qua ho più o meno una variazione di 0 gradi al secondo, in questo momento sto facendo circa 2 gradi al secondo, sto salendo di 2 gradi al secondo, qui sono tornato a una variazione più o meno di 0 e qui sto ancora riscendendo di più o meno 2 gradi al secondo. Come fare a sapere la pendenza dei punti che abbiamo raccolto all'interno del nostro array di TIST? possiamo far finta che questi punti debbano essere lungo una retta e calcolarne la pendenza. Ora non sto ad annoiarvi ulteriormente con operazioni matematiche, ma sostanzialmente si tratta di fare, comunque per chi vuole andare a ricercare un'operazione chiamata regressione lineare, che ci darà un numero e questo numero coincide con la variazione di gradi al secondo. Inoltre, quando andiamo a stimare questa regressione lineare, ci viene rischi tutto anche un altro numero, che è la correlazione tra i campioni. La correlazione, anche qui senza andare a introdurre troppi concetti matematici, ma ci dice quanto bene sono allineati i punti che abbiamo raccolto rispetto all'ipotesi che stiamo facendo che siano lungo una retta. Per cui, se riguardiamo il nostro grafico, se prendo questo insieme di punti ci darà circa 0 e saranno molto ben allineati. Se prendo questo insieme di punti ci dà una pendenza di un tot di gradi al secondo, può essere, che ne so, 0.1 una cosa del genere 0 o 2 o quello che è. Questi punti sono molto ben allineati lungo una retta che sale verso l'alto, quindi la correlazione positiva sarà molto alta. Questi punti sono molto ben allineati su una retta che scende, quindi la correlazione sarà un valore negativo molto basso. Quindi andiamo a confrontare questi valori di regressione e di correlazione con due valori fissi che inseriamo all'interno del programma che saranno la variabile chiamata slope, che sarà la pendenza di accensione e spegnimento. Nel programma vedremo quello impostato a 0.03 vuol dire circa 3 centesimi di grado al secondo che corrispondono a 1.8 ogni minuto che è tanto di variazione per la temperatura. Se la temperatura sta variando di 1.8 al minuto in più sicuramente c'è una fiamma accesa nelle vicinanze e in più viene viene confrontata una variabile i valori di regressione e correlazione vengono di correlazione vengono confrontati con la variabile alignment per capire quale è l'allineamento minimo richiesto perché la correlazione deve essere buona altrimenti anche se abbiamo dal nostro calcolo un valore di dipendenza positivo non possiamo considerarlo veramente buono come valore raccolto ok torniamo al nostro programma e riapriamo il plotter seriale e vediamo cosa succede quando accendiamo una fiamma accendo questo fornello come vedete la temperatura si è alzata subito appena acceso il fornello e il led giallo sta lampeggiando perché in questo momento Artwinno sta contando gli ho impostato una soglia di circa un minuto sta contando il tempo che passa da quando la fiamma si è accesa e dopo un minuto il nostro allarme comincia a suonare adesso mi sono appena avvicinato al sensore di vicinanza quindi il contatore ha smesso mi allontano un attimo ok come vedete che cosa succede in pratica la temperatura continua a salire la temperatura media più o meno segue e mentre la temperatura ambiente che è la linea gialla ovviamente rimane impostata al volo del precedente perché non la sto raccogliendo nuovamente in questo momento all'interno del ciclo principale cioè la sto raccogliendo ma non essendo essendoci una variazione della temperatura media molto forte rispetto a quella che è la temperatura ambiente non voglio assolutamente aggiornare la temperatura ambiente allora aspettiamo ancora un attimo ok come vedete è cominciato un minuto e il nostro è passato un minuto e il nostro sensore ha cominciato a suonare perché c'è la fiamma accesa e nessuno sta passando vicino alla fiamma chiaramente se spengo la fiamma Arduino smette di suonare allora ha smesso di suonare perché mi sono avvicinato in questo momento ma comunque dopo averla spenta come notate il led rosso si è spento quindi la fiamma e l'allarme ha smesso di suonare quindi sono sostanzialmente due modi di smettere di far suonare l'allarme il modo dipende da quello che sta succedendo uno dei modi è spegnere la fiamma la fiamma si spegne il led rosso si spegne e l'allarme smette di suonare oppure basta avvicinarsi al sensore si può impostare la soglia di distanza oltre il quale scatta diciamo il sensore di avvicinamento e l'avvicinamento farà smettere di suonare il nostro Arduino Arduino